E benvenuti a tutti in questo nuovo video Qua siamo col carico complessivo di Capodanno Più petardi, vabbè che adesso non faccio vedere, faccio vedere solo di torte diciamo Ok, partiamo vabbè da questi tre che mi hanno regalato Tre conetti, conic fontai, no vulcano fontana, vabbè comunque tre coni Piccola pratica E non so che effetti abbiano di preciso Comunque qua sotto c'è sempre il libretto perché dove compro io Non so perché metto un libretto dappertutto Comunque penso che siano argentato Comunque io vi faccio una bella Come solito quando registro io iniziano a fare un casino in casa mia Ok io vi faccio Lo metto a fuoco poi leggetevelo voi Lo mette più a fuoco Ok più o meno Comunque Questo è E comunque penso siano argentati comunque tre conetti giusto per far aprire le danze Poi abbiamo una Magnolia Crackling New della Martarello Sedici colpi Vabbè una miccia Che non capisco poi perché scrivono prima miccia Comunque vabbè Una sedici colpi Magnolia Crackling New Ok E questa qua Tiene Tiene 122 grammi O c'ha come si dice Tiene 122 grammi 3,08 E vabbè vietato ai 18 anni Fino al minimo di 18 anni Comunque chi se ne frega Io ne ho 13 quindi quasi Siamo quasi a 18 Poi abbiamo Una 15 colpi Vabbè però è un po' più bello Ah Dopo vi dico tutti i prezzi Sempre martarello Appache Che si chiama E Questa qua invece tiene 180,02 180 tiene E i tubi sono monocolpo La miccia è qua Sta qua Infatti l'avevo già un po' scoperta Vedete la miccia Dopo parte E questa è una 15 colpi Diciamo Vabbè andiamo in ordine Poi abbiamo una 16 colpi Una 25 colpi Scusate ne avevo due di 16 colpi Però una già l'ho sparata Una Fuo Tuono di primavera 25 colpi Come leggete qua 25 shot Infatti qua c'è scritto 16 shot E qua c'è scritto 15 shot Come vedete Tuono di primavera Sempre della martarello Perché tutto della martarello 25 colpi Comunque raga Vi faccio notare una cosa Qua i tubi sono così 25 colpi Quindi sono un po' più piccoli Però nella 16 colpi O nella 15 Vedete che sono Molto ma molto più grandi i tubi C'è Guardate La differenza che c'è Tra questo Di tuo E questo Molto più piccoli E quindi lo spettacolo non è Così bello Però fa più colpi Quindi o come preferite voi Preferite Poi come pezzo finale Abbiamo 6 Razzoni Grossi Razzi Apollo 3 Della martarello Sempre Red Vabbè Red Peony Come si dice Golden Peony Green Peony Garden No Garden Green Peony Vabbè Grigio Ve li faccio in italiano Perché io con l'inglese sono Rosso Oro Argento Verde Giallo E blu Peony E come potete leggere qua Se c'è La merda in italiano Ma come tutto in cieco slovacco Quindi Faccio leggere Da qua Sfatti Vediamo se trovo L'indicazione Ok Allora Devo trovare L'italiano Vabbè Trovo le istruzioni Raga Però poi ve lo faccio Ah qua Forse Ecco Vedete Apollo Rosso Apollo Bianco Apollo Blu Apollo Giallo Apollo Giallo Oro Apollo Colori Misti Che dovrebbe essere L'ultimo Credo Vabbè Rosso Questo qua è quello Colori misti Apollo Blu No Quali colori misti Comunque Una colori misti Raga Uno di questi tre Di questi sei razioni Belli Raga Fidatevi E tengono 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 La grammatura Qua non sta scritta Ah Uno tiene 183 grammi Uno Quindi fate un po' di conti 183 grammi Via Va bene No Si comunque Zero Vabbè E questi qua sono Della Martarello Belli Allora Vi dico i prezzi Iconetti costavano 5 euro Questi qua Non mi li hanno regalati Tuono di primavera 20 euro Apache 18 euro Questa 13 euro E i razzoni Questi qua Della Martarello 22 euro Che dirvi Raga Questo era il primo carico Era l'ultimo carico Per il capodanno 2016 2017 Poi O prossimo anno Speriamo di avere meglio Comunque Tanto è già Un bel traguardo Bene Che dirvi Spero guardate questo video Dal mio canale è tutto Guardate i video precedenti Del secondo carico E del primo carico E che dirvi raga Con questo vi saluto Bella raga Buongiorno Buongiorno Grazie a tutti.